Continua il campionato provinciale di karate del CSI e la terza prova si è svolta come da tradizioni al palazzetto di Verdello. Ci sono molti atleti e come tutti gli anni, grazie anche all'aiuto dell'assessore del comune che ci ha gentilmente concesso il palazzetto, che è una bella struttura, riusciamo a organizzare tutti gli anni la terza prova provinciale del CSI di karate. Il karate Verdello, sono 36 anni che esiste a Verdello, abbiamo più di 70-80 allievi, siamo un paio di istruttori. È una gara molto importante perché dà la possibilità alle giovani generazioni di praticare questo sport, uno sport che non è solo l'organismo, molto importante che lo sport sia visto come educazione. Il bilancio della manifestazione parla di tantissimi atleti in gara. Sono 27 società presenti oggi, sono 360 i partecipanti e ho idea che le prossime due gare, siccome vengono ospitate da società che hanno parecchi ragazzi, dovrebbero crescere anche i numeri. La prossima gara la facciamo a febbraio, il 16 febbraio a Zogno, a cura del Bushi Zogno. La terza prova è stata anche l'occasione per fare un viaggio attraverso le figure professionali che gravitano attorno agli atleti in gara. Ci sono i presidenti di giuria che hanno un ruolo di supervisori. Prima erano persone di buona volontà che si affiancavano agli arbitri e davano una mano nel ridigere i punteggi e le varie cose che si facevano. Adesso invece sono figure professionali. Cosa vuol dire? Fanno dei corsi, imparano i regolamenti, imparano tutto quello che concerne il loro lavoro. Presente alle gare di karate è anche uno staff sanitario che entra in pista in caso di malori o infortuni degli atleti. La squadra è composta da un medico, da me e da tre soccorritori della Croce Rossa e abbiamo un ruolo di soccorrere eventuali infortuni o eventualmente nel caso di malore i colleghi della Croce Rossa possono trasportare il paziente in pronto soccorso.